Ciao a tutti pellegrini e pellegrine della rete e benvenuti a una nuova puntata di come fare musica in modo insolito. Cominciamo! Un certo Daniele, poverino, dico poverino perché insomma pure qua siamo veramente all'ABC della teoria musicale, mi chiede, Gigi Miu, per piacere, insegnami come fare a far musica con i biscotti. Daniele, dico ma senti, ma tu hai mai sentito parlare dell'orchestra sinfonica pasticcera di Vienna? No? Beh, devi sapere che un mio antenato, un certo Beethoven Miu, mi faceva parte e faceva sempre, sempre, sempre musica con i biscotti. Guarda, ti faccio vedere. Innanzitutto, devi capire che non è che vanno bene tutti i biscotti, ti servono i biscotti giusti. Guarda, guarda, prendi questi, prendi questi, annota, hai capito? E quest'altri, a chiave di violino, da qui ci metti un pentagramma e poi ci metti le note vicino. Poi lo ditte, è l'ABC, l'ABC, è come se fa musica con i biscotti. Sono pure buoni. Ho fatto un casino. Se questo video vi è piaciuto o se non vi è piaciuto, in ogni caso, non importa, ormai non fa più differenza, premete sul pulsante iscriviti e accanto c'è la campanellina, suonate pure quella, ok? Pulsante like, commenti, share, tutto di tutto di più. Se avete idee su come fare il prossimo video, scrivetelo nei commenti, ok? Alla prossima, ciao ciao! Ciao!